Sono riusciti a mettersi in salvo prima che fiamme e fumo dell'incendio sviluppatosi poco dopo le 6 di stamattina nel garage invadessero del tutto l'abitazione. La brutta avventura ha riguardato una famiglia di tre persone, due coniugi anziani e il loro figlio che vivono in contrada a Procida Vecchia a Lioni. Le fiamme hanno dissutto un'auto e un trattore che si trovavano all'interno del garage a poco distanza dalla palazzina di Treppiani dove abita la famiglia. Le fiamme sono state ulteriormente alimentate dalla catasta di legna e altro materiale infiammabile custoditi all'interno. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montella e dal comando provinciale è stata inviata un'autobutte. L'anziana e il figlio sono riusciti a mettersi in salvo guadagnando l'uscita mentre la madre, di 80 anni, si è rifugiata all'ultimo piano dell'abitazione per sfuggire al fumo che ormai aveva invaso gli ambienti. L'anziana ha trovato scampo salendo su una finestra da dove è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco che hanno utilizzato una scala per portarla a terra. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha visitato le persone coinvolte che non hanno avuto bisogno di far ricorso alle cure ospedaliere. L'incendio è stato domato in alcune ore e la struttura è stata messa in sicurezza dai caschi rossi.